La modifica amministrativa. In tal senso la sua bolletta subirà una variazione di prezzo. Digiti il tasto 1 e la contatterà un nostro operatore in meno di un'ora per la specifica di tutti i dettagli. Digiti il tasto 3 per ripetere il messaggio. Restiamo a sua disposizione. Grazie per l'ascolto. Finalmente una velocità maggiore ad un costo minore. Modifica amministrativa. In tal senso la sua bolletta subirà una variazione di prezzo. Digiti il tasto 1 e la contatterà un nostro operatore in meno di un'ora per la specifica di tutti i dettagli. Digiti il tasto 3 per ripetere il messaggio. Restiamo a sua disposizione. Grazie per l'ascolto. Modifica amministrativa. In tal senso la sua bolletta subirà una variazione di prezzo. Digiti il tasto 1 e la contatterà un nostro operatore in meno di un'ora per la specifica di tutti i dettagli. Digiti il tasto 3 per ripetere il messaggio. Restiamo a sua disposizione. Grazie per l'ascolto. Modifica amministrativa. In tal senso la sua bolletta subirà una variazione di prezzo. Un ribasso in bolletta di almeno 10 euro. Tremi 1 per essere contattato. Tremi 2 per riascoltare il messaggio. Modifica amministrativa. Modifica amministrativa. Questa settimana un ribasso in bolletta di almeno 10 euro. Tremi 1 per essere contattato. Tremi 2 per riascoltare il messaggio. Modifica amministrativa. Modifica amministrativa. Modifica amministrativa. Modifica amministrativa. Modifica amministrativa. Grazie.